Ivano Cucco, assessore da poco con la Giunta Sanna, un progetto che è partito tanto tempo fa, è arrivato alla sua conclusione, oggi nasce qualche problema in eredità, ce li racconti? Io credo che i problemi in effetti siano poi delle opportunità, credo che appunto questa opportunità debba essere vista nel verso giusto, è vero, ci sono delle necessità che probabilmente non sono state valutate nei momenti opportuni, in questo momento ritengo che si debba vedere quel progetto in modo diverso. C'è un problema di viabilità del servizio pubblico urbano legato al cosiddetto ponte di Chirighiddu, ma io ritengo comunque che, come dicevo in premessa, quel problema possa essere risolto vedendo quel problema dal lato positivo, cioè andando e rivalutando quello che è il percorso stradale e magari anche attraverso uno studio di fattibilità, magari cercando di capire se ci sono le opportunità di rivedere il manto stradale. Rivedere vuol dire cercare di abbassare quel manto stradale in modo da consentire ai mezzi pubblici urbani di poter transitare. Ma quando si parla anche di mezzi urbani, noi evidentemente ci stiamo riferendo solo e scusamente ai mezzi interprovinciali e non quelli locali, perché poi quelli locali hanno la possibilità di poter transitare sotto il ponte appunto che abbiamo detto, cosiddetto di Chirighiddu. Quanto mancherebbe per poter passare tutti in centimetri, prezzo a poco? Ma noi stiamo valutando la possibilità di abbassare quel manto stradale di circa 30 centimetri. Ora abbiamo evidentemente un'interlocuzione con Arte Sardegna che ci sta fornendo l'altezza dei nuovi mezzi pubblici.